Abbiamo tenuto a fare questo convegno per fare anche il punto con Federanziani per quanto riguarda le politiche di invecchiamento attivo della regione. Stiamo in tensione ovviamente, come avete già visto in altre occasioni, di questa giunta una collaborazione e una sinergia con gli enti del terzo settore che ci aiutano a farsi rispondere al meglio alle esigenze del territorio. Noi siamo una regione con una incidenza di popolazione anziana molto elevata ed è il nostro compito mettere in campo tutte le politiche attive per far sì che vi sia un invecchiamento attivo e un invecchiamento a misura di persone. Ma anche si deve educare la popolazione anche alla dieta mediterranea perché la dieta mediterranea è appunto uno stile di vita, è anche un nostro patrimonio immateriale e che ci consente rispetto ad altre parti del mondo di avere un quid in più per quanto riguarda la nostra salute. Non ci sono più l'ora da giovinezza, mi dispiace ma dobbiamo soffrire. Allora, l'invecchiamento è una cosa naturale e con l'invecchiamento avviene quello che si chiama una perdita della capacità omeostatica, cioè il nostro organismo generalmente riesce, nella maggior parte dei casi, a contrastare quello che succede intorno, un'infezione, una cosa. E quindi questa è una capacità omeostatica. Con l'invecchiamento questa capacità omeostatica si perde e insieme alla perdita della capacità omeostatica, anzi in conseguenza della perdita di capacità omeostatica, vengono tutta una serie di malattie. La prima della quale è la sarcopenia, cioè la perdita della massa muscolare, che è un modo che l'organismo ha per cercare di contrastare. Quindi in pratica l'organismo mangia i propri muscoli. E questo porta appunto a debolezza, ovviamente, e innesca una serie di degenerazioni dell'organismo, le conseguenze delle quali sono le cosiddette malattie correlate, la demenza, i tumori e così via. Cioè tutta una serie di cose che sono correlate appunto con questa perdita di capacità omeostatica e la sarcopenia di cui si parla oggi è il primo segnale importante. Ovviamente, diciamo, quello che la ricerca negli anni ha fatto, soprattutto negli ultimi anni, perché per molto tempo si è parlato soprattutto di come allungare la vita, solo negli ultimi anni se ci si è accongertati di più su come migliorare la vita, soprattutto nell'ultima parte, diciamo, nella parte della vita anziana. E quello che si è visto è che innanzitutto per migliorare la vita anziana bisogna migliorare la vita da adulti. Quindi avere una dieta assolutamente sana... Sto parlando di prevenzione? Sto parlando di prevenzione, sì, soprattutto di prevenzione, perché è molto chiaro che chi mangia bene tra i 40 e i 60 anni, chi ha una vita sana tra i 40 e i 60 anni, avrà poi una vita sana da più anziano.